Prestigioso riconoscimento per la talentuosa palleggiatrice dell'Arns Comiso Elena Antonuzzo, 16 anni. Per la seconda volta consecutiva la volleyista di origini vittorise è stata infatti inserita nella lista delle migliori 12 atlete siciliane e parteciperà alla 33esima edizione del Trofeo delle Regioni in programmi in Umbria dal 27 giugno al 2 luglio. La prestigiosa manifestazione, sicuramente l'evento giovanile più atteso del volley nazionale, vedrà protagonista le selezioni di tutte le regioni italiane, sia maschili che femminili. Quindi una vera e propria festa alla pallavolo, dove ben 40 formazioni si confronteranno nei vari palazzetti delle città umbre. Soddisfazione quindi in casa Ardans per quest'ennesima conferma, ed è ormai da diversi anni infatti, che alcune atlete della storica società Iblea vengono selezionate per rappresentare la Sicilia. Orgogliose e strafelici alla società, col suo vicepresente Francesco Davros in testa, anche quest'anno ha dichiarato il dirigente, abbiamo avuto grosse conferme dal settore giovanile, conquistando il titolo di campioni regionali con l'Under 16 e piazzandoci al tredicesimo posto a livello nazionale. Da ricordare che Antonuzzo si è messo in luce aggiudicandosi i premi speciali come miglior palleggiatrice, sia Under 16 che 18, strafelici e orgogliose anche in famiglia, a partire dalla mamma, luce invincibile, figura storica della pallavolo vittorese, oltre alle tre sorelle, tutte ex giocatrici. Grazie. Grazie. Grazie.